bella raga da vostro grande capitana appoli e benvenuti in questo nuovo video purtroppo vi devo dare una brutta notizia anche se penso che molti di voi lo sapranno già nel cuore della notte purtroppo è venuta a mancare la giornalista famosissima delle iene nadia toffa 40 anni purtroppo ha combattuto con grinta cuore determinazione con un coraggio una voglia di vivere straordinaria purtroppo la malattia se l'è portata via nel cuore della notte enorme dispiacere enorme stima e rispetto per questa straordinaria donna una grande donna che si è fatta sempre rispettare con dignità con intelligenza con capabilità ha lottato fino alla fine per cercare di sconfiggere la sua malattia la cosa che ha commosso tutta l'italia è stato qualche mese fa una delle ultime sue apparizioni mi ha proprio emozionato dove lei scusate aveva questo questo bel sorriso che insomma voleva far capire che ce l'avrebbe potuta fare e questo secondo me la cosa che fa più male perché aveva una grande grande voglia di vivere scusatemi l'emozione purtroppo questo male maledetto lo alla tra virgolette sconfitto purtroppo vi auguro un buon proseguimento di giornata del nostro grande grande capitano napoli un saluto un bacio da lassù riposa in pagina da diata nadia toffa scusate l'emozione ci mancherai tanto ciao nadi